Ciao a tutti, oggi faccio l'unboxing di questa nuova lampada che ho preso su Amazon costava circa 11 euro mi ha colpito perché dovrebbe avere una batteria da 2000 mAh e quindi era un po' più conveniente rispetto a altri vediamo cosa c'è dentro essendo cinese allora, 4 W di potenza a quanto pare mi pare abbastanza strano perché era scritto qua 3 W però comunque poi è tutto scritto in inglese led, non so se aveva 18 led non mi ricordo comunque è touch e si può mettere, adesso vedo la mostra eccola qua è una bella rondina il piedistallo effettivamente non è con la pinza perché in genere quella che ho una volta era con la pinza qua vediamo il cavo USB per la ricarica solito ed ecco qua la lampada la scatola era piuttosto spartana perché non c'è neanche scritto il marchio cioè se uno guarderebbe questa metà scatola non capirebbe nemmeno di che marchio è vediamo qua eccola qua adesso vediamo se riesco a farla vedere ecco è abbastanza bella grande questa mi piace perché mi sono presa una nuova lampada perché quella che avevo fino a questo momento è piuttosto piccola una luce da libro e mi è troppo scomodo per certe cose questa finalmente devo dire che è molto lunga molto bene allora adesso adesso la faccio vedere qua c'è la piedistallo che è più grande di quanto pensassi qua si può mettere il cellulare qua c'è l'interruttore touch che adesso non funziona perché qua dietro da notare che c'è l'interruttore e qua il cavo la porta per la ricarica quasi tutto scritto in cinese con quelle specifiche 4 watt 5 volte eccetera eccetera bene adesso vediamo se funziona ok off on adesso vediamo se viene la luce ecco si accende uno due tre ecco allora si vede che è ottimo come sicurezza chiudendola qua non c'è il rischio che si accenda mettendo su on si accende se vuoi la mostra come la luce vedete uno due tre quattro cinque sei sette otto nove decimi si dodici dodici watt le dodici led scusate allora adesso accendo ciac media e massimo molto forte ottima per lavorare sicuramente questo è stato un breve unboxing quindi in genere questi queste cose qua che adesso non so queste aste negli anni tendono a diventare più molli a non riuscire a stare su bene vedremo se questo marchio sarà meglio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti